Grande entusiasmo in occasione della presentazione della squadra professionistica di ciclismo neri sotto l'igliello fluo per quanto riguarda la stagione 2014. La serata si è svolta nello splendido Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio di Montecatini. Di fronte al padrone di casa, il sindaco Giuseppe Bellandi e gli ospiti d'onore Davide Cassani, neocommissario tecnico della Nazionale Italiana e Mario Cipollini, uno dei più forti velocisti mai esistiti, la formazione allestita da Luca Scinto e da Angelo Citracca ha fatto la passerella per ricevere gli applausi dei numerosissimi tifosi. Insieme a Citracca e Scinto nel ruolo di direttore sportivo ci sono anche Sergei Parsani, Stefano Garzelli che si è appena ritirato dalle corse, Luca Amoriello e Marco Vallante. L'organico prevede ben 19 corridori, 6 le frecce nell'arco della neri sotto l'igliello fluo, Raffale Andreato, Francesco Chicchi, Daniele Colli, Mauro Finetto, Simone Ponzi e Matteo Rabottini. Il primo risultato è già arrivato con l'invito dell'RCS che organizza il Giro d'Italia a partecipare alla manifestazione più importante della nostra penisola. Gli obiettivi sono il Giro d'Italia, le classiche che facciamo e la Coppa Italia. Ti piace la squadra? Segue un po' il tuo carattere? Sì, è un mix di giovani, di corridori esperti, di battaglieri, sì, sono molto contento della squadra. La neri sotto l'igliello fluo ha anche una squadra juniores interamente dedicata a Franco Ballerini. La formazione si chiama proprio con il nome dell'ex re della Parigi Roubaix e GT della Nazionale. La formazione si chiama proprio con il nome dell'RCS che ha unitions di 나� caf recountare? Eültitelante. Grazie a tutti.